Si chiama PAOK, il contest voluto dal Dipartimento della Funzione Pubblica e attuato dal Formez per promuovere buone pratiche nelle pubbliche amministrazioni a partire dal confronto e dalla condivisione di esperienze. Il progetto è realizzato con il contributo scientifico della SDA Bocconi e si articola in sette aree d'azione, efficientamento energetico, sostenibilità e transizione ecologica, digitalizzazione, innovazione sociale, inclusione, fragilità, lavoro e sviluppo economico, innovazione gestionale e semplificazione amministrativa. PAOK ha l'obiettivo di raccogliere esperienze di innovazione condotte da amministrazioni pubbliche per intanto rilevare e monitorare quello di interessante che sta succedendo, per restituire a coloro che lo stanno facendo quali sono gli elementi che lo caratterizzano e quindi rafforzare chi lo sta facendo, per premiare coloro che stanno facendo le cose più interessanti ma anche per diffondere. È un contest che si sviluppa su tutto il paese, abbiamo scelto Napoli per raccontare il tema dell'innovazione sociale rispetto alle fragilità e al tema dell'inclusione. I progetti saranno selezionati per premiare i migliori, quelli che ad avviso nostro della Bocconi e del Dipartimento hanno creato maggiore valore per i cittadini, ma sarà soprattutto creato un percorso di apprendimento in cui tutte le amministrazioni alla fine saranno vincenti, perché tutte le amministrazioni riceveranno strumenti di fortificazione nella loro capacità di scrivere e realizzare i progetti. Le candidature delle PA centrali e locali possono essere inviate entro il 2 settembre prossimo attraverso la piattaforma paocformets.it ed i progetti migliori saranno premiati in un evento finale dal Ministro per la Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo. E questo pensiamo che possa aiutare le amministrazioni a vivere il loro impegno in maniera non isolata e a dare valore al lavoro di tanti funzionari e di tanti dirigenti che nelle amministrazioni lavorano quotidianamente per creare interesse e valore per i cittadini.